Grazie, buona giornata e il saluto va subito anche a Don Antonio Mazzi. Don Antonio, buongiorno. Ciao, quest'anno, questa mattina saluto speciale, perché sto portando per Gerusalemme. Wow. E quindi pregherò anche per le vostre anime. Grazie. Oltre che per tutte quelle degli italiani. Va bene. Va bene? Capito? Sì. Don, ti abbracciamo. E quindi, chiaramente, questi giorni sarete più buoni, va bene? Ti penseremo tanto. Ciao, 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 ciao. Buon viaggio! Buon viaggio a Don Antonio Mazzi. Va bene, un capolavoro di Renato Zero. Il è cielo. Su RTL 125 ascoltate il testo, veramente con molta attenzione.